Abbiamo necessità di rappresentare al governo, in particolar modo al ministro delle infrastrutture, alcune grandi sfide che la città di Fano ha davanti e che non può permettersi di perdere. Intanto quella delle opere compensative della 14 che rischia di essere stralciata per una serie di pareri negativi, anche di lentezze, se vogliamo, burocratiche. E secondo me Fano, che sia l'unica città d'Italia che si perde le opere accessorie fatte per l'ampliamento della 14, se si perda il finanziamento per il casello mi sembra veramente un grande peccato contro cui occorre impegnarsi per evitarlo. Le altre cose più importanti sono i due progetti che secondo me devono essere finanziati con i fondi FAS e che necessitano anche dell'avvallo del governo che sono la difesa della costa con le scogliere e il grande problema della strada delle barche che ugualmente entro dicembre se non c'è un progetto esecutivo se non vengono utilizzati i fondi che sono già stati stanziati verranno persi. Queste due cose si uniscono ad altri temi importanti che penso la città ha di fronte che ad esempio potremmo proporgli anche un impegno sulla sede Saipem di Fano che dopo questa volontà trappelata di Eni di vendere Saipem potrebbe essere a rischio. Ci sono diverse cose su cui poi credo che anche il sindaco voglia coinvolgere il ministro che verrà mercoledì. Questa mattina è stato firmato anche il protocollo che riguarda l'abusivismo commerciale e proprio lei aveva fatto una richiesta al prefetto giorni fa. Sì, devo ringraziare il prefetto Attilio Visconti perché si è attivato in modo esemplare su questa vicenda che purtroppo viene sottovalutata e ho visto anche nelle vostre interviste un atteggiamento buonista nei confronti di chi fa commercio abusivo, di chi fa le bancarelle ambulanti. Io sono dalla parte dei commercianti che pagano le tasse, che con difficoltà tengono aperti i negozi, pagano i dipendenti, mantengono gli impegni con lo Stato perché in questo momento permettere e lasciar perdere la contraffazione e la vendita abusiva fa due tipi di danni. Il primo danno è contro i commercianti che pagano le tasse che sono in regola e quindi è una concorrenza sleale fatta a chi vende i prodotti. La seconda è un favore fatto alla criminalità organizzata perché chi vende i prodotti contraffalti del Made in Italy vengono distribuiti dalla Camorra e quindi questa è una cosa nota a tutti e fare i buonisti di fronte a questo problema è veramente sbagliato. Quindi ringrazio il prefetto. Mi auguro adesso però che i comuni facciano quanto scritto nel protocollo, cioè attivino anche un numero verde per poter in qualche modo fare intervenire le forze dell'ordine contro i momenti di mercato abusivo, contro il commercio abusivo e soprattutto contro la contraffazione.